Il 23 dicembre prossimo sarà una data storica per la città di Teramo, lo afferma il sindaco Gian Guido D'Alberto nell'annunciare l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto definitivo del pieno recupero del teatro romano. La variante urbanistica permetterà così di espropriare e abbattere i due edifici che insistono sull'antica cavea, condizione indispensabile e fortemente dibattuta da decenni per rendere fruibile tra i più importanti beni archeologici dell'Abruzzo. Cosa sarà approvato il 23 dicembre esattamente? Il 23 dicembre intanto è una giornata storica perché si mette il punto definitivo su quello che è l'obiettivo del recupero pieno in funzione del teatro romano attraverso l'eliminazione dei due palazzi Adamoli e Salvoni così come il Consiglio Comunale ha deciso quasi all'unanimità nel 2010. Dopo tanti anni di stallo, di rallentamenti abbiamo accelerato e siamo arrivati all'ultimo passaggio di fatto in Consiglio Comunale con la presa d'atto del progetto definitivo, con le prescrizioni della sovrintendenza e quindi dando il là poi al riadattamento finale del progetto definitivo che è comunque questo, fatte salve queste prescrizioni per poter procedere poi alla gara. Sul progetto definitivo del recupero del teatro romano realizzato dallo studio Bellomo di Palermo la sovrintendenza bruzzese ha avanzato alcune ultime prescrizioni su passerelle e copertura dei reperti che saranno recepite entro marzo 2020, probabile data per la gara del progetto esecutivo. L'obiettivo è questo, assolutamente è un obiettivo ambizioso, quasi un piccolo miracolo visto le condizioni di partenza, almeno all'inizio del nostro mandato, ma è un obiettivo alto, altissimo che appartiene ovviamente a una finalità centrale per la nostra città, per tutta la provincia, per la regione vi dice anche una grande attenzione della regione Abruzzo su questo recupero e vogliamo andare in questa direzione con questi tempi. Si approva poi ovviamente la variante urbanistica con la dichiarazione di pubblica utilità perpetetica degli espropri e questo è il vero fatto storico, su cui abbiamo la piena intesa con la sovrintendenza e poi si approva lo stralcio, lo stralcio di 4 milioni di euro che è l'importo che attualmente abbiamo a disposizione che consente quindi di procedere fin da subito ad una gara che ci porterà ad una rifunzionalizzazione del teatro in tempi brevi, quindi in attesa dell'ulteriore copertura finanziaria.